Il Barbera o la Barbera? In quel periodo la Barbera era molto conosciuta, molto diffusa e molto consumata. Purtroppo la fama della Barbera è stata oscurata a metà degli anni Ottanta del secolo scorso con quello che da tutti è conosciuto lo scandalo del vino al metanolo. In quel frangente la Barbera purtroppo ha catalizzato su di sé l'immagine che l'opinione pubblica aveva di un vino purtroppo fatto male. In quel momento tanti vignaioli di qualità hanno ripensato a questo punto alla Barbera in termini di qualità produttiva e hanno potuto dare nuova vita a questo vino e a questo vitigno. Tra tutti ricordiamo Giacomo Bologna e il suo famosissimo Bricco dell'Ucellone. Al naso si possono sentire note di frutta rossa, in particolare la ciliegia e il frutto di bosco. In bocca ha una discreta persistenza e permette appunto di affrontare diverse tipologie di cibi. La Barbera più giovane, magari passata solo in acciaio, la possiamo abbinare per esempio a un buon piatto di salumi. La Barbera invece più strutturata, quindi magari con un pastaggio in legno, in volte grande o anche piccola, ha sentori di complessità maggiore anche di tipo speziato. La possiamo quindi abbinare con delle paste, anche ripiene, con delle carni arrosto o bollite, con dei formaggi anche un poco stagionati.